Ci troviamo all'interno di un autentico scrigno di bellezza, di bellezza verde. Il Bosco Caracciolo sono due ettari di parco che nascono proprio all'interno del centro storico di Penne e va assolutamente ripristinata la sua funzionalità. Pensate che c'è un decreto del Presidente dell'Aggiunta regionale d'Alfonso del 2016 che lo riconosce come monumento naturale, però da allora non è stato fatto assolutamente nulla. Con una risoluzione in Consiglio regionale ci chiediamo di impegnare il Consiglio regionale, del Presidente Marsilio a riaprire questo autentico tesoro e nello stesso tempo con un'azione coordinata con la Consigliera Comunale di Penne Angela Pizzi presenteremo anche lì in Consiglio Comunale a Penne una mozione per fare in modo che nasca un tavolo e si occupi gradualmente, per step, anno per anno, di riaprire il Bosco Caracciolo e poi ci occuperemo naturalmente anche della lecceta di Colle Romano.